Sicuramente siamo felice di disputare questa finale dopo tanti anni, per me nove anni sono qua, è la prima volta, quindi sono strafelice e contenta del percorso che abbiamo fatto. Andiamo in campo comunque consapevoli delle nostre qualità e ce la metteremo tutta. Non sarà facile perché sarà anche un derby, però noi metteremo in campo tutto quello che abbiamo fatto vedere in questa stagione. Sicuramente non sarà facile, però la conosciamo, bisogna lavorarci ancora bene, ma siamo pronte, anche perché siamo le due squadre più forti arrivate fino a questo punto e quindi vincerà chi ne avrà di più. Sicuramente la loro chiave principale sarà fermare Howard e noi dobbiamo essere brave a farci trovare pronte. Dal nostro punto di vista sono tutte forti e quindi bisogna difendere duro, aggressive e concentrate.